Il tema della giustizia riparativa ha tenuto banco nel Sala Ticozzi all'interno del programma di Manifesta 2017. Nella prima parte i protagonisti sono stati gli studenti degli istituti superiori Marco Polo di Colico e Villa Greppi di Monticello che hanno dato vita a verso una comunità riparativa sentieri e orizzonti illustrando i percorsi seguiti durante l'attività scolastica a organizzare tutto la tavola lecchese per la giustizia riparativa che opera a Lecco dal 2012 e a novera enti, istituzioni e cooperative sociali del territorio con l'obiettivo di diffondere la cultura della giustizia riparativa. Riteniamo che sia importante, molto importante, anche perché sappiamo che la giustizia riparativa si fonda sostanzialmente sul prendere contatto e mettere in mediazione tre parti fondamentali che sono i rei, gli autori di reato, le vittime e la comunità territoriale. Dei rei e delle vittime in qualche modo la giustizia, le componenti anche più istituzionali, strutturali della giustizia e della riflessione sociale e sociologica se ne occupano molto. Non ci può essere però approccio riparativo e giustizia riparativa se il territorio, se le comunità di vita non sono in qualche modo pronte a fare i conti con questa visione. Coinvolgere le scuole, coinvolgere degli studenti, dei ragazzi che sono il presente e il futuro per aiutarli, incominciare a aiutarli, a sensibilizzarsi, nella logica del progetto non solo a sensibilizzarsi ma fare proprio una prima esperienza personale di approccio riparativo, riteniamo che sia fondamentale perché saranno eventualmente loro a creare le condizioni da oggi verso il futuro perché le prospettive della giustizia riparativa e dell'approccio riparativa possano trovare un terreno concreto, umano, relazionale, fertile per trovare spazio. L'obiettivo non è assolutamente quello di sostituirci agli apparati della giustizia ma è quello di creare all'interno della comunità un approccio diverso alla giustizia. In Europa questo approccio si sta già sviluppando da anni, all'ECCO appunto dal 2012. Quello che intendiamo fare oggi è proprio un esempio di sperimentazione, di esperienza all'interno di una delle parti più vitali della nostra comunità che sono le scuole. I ragazzi hanno lavorato con un approccio riparativo all'interno di una situazione conflittuale che noi abbiamo proposto attraverso una storia e che è una situazione che può accadere tranquillamente nel loro quotidiano. Hanno imparato a prendere posizione all'interno di un conflitto e a capire che si può cambiare idea all'interno di un approccio che non vede come soluzione un'unica soluzione ad un problema conflittuale ma che prende in considerazione il fatto che le soluzioni possano essere tante e diverse tra loro. È iniziato tutto partendo da una storia principalmente di ragazzi come noi per cui degli studenti delle superiori che si sono trovati in una situazione problematica. Dopo divisioni eccetera sono arrivati tutti a un punto fondamentale che è il dialogo. Il dialogo, il confronto, il confronto che arricchisce l'uomo immancabilmente porta a qualcosa di positivo per tutte le parti seguendo le loro necessità. Avete imparato a gestire i conflitti in questo percorso di giustizia riparativa. Innanzitutto vi è piaciuto e cosa vi ha lasciato? Sì, ci è piaciuto molto. Ci ha fatto comunque riflettere molto su come poter affrontare un conflitto che può capitare comunque in qualsiasi occasione nella nostra vita e quindi ci ha, tra virgolette, rassicurato di più su quello che potremmo fare per raggiungere appunto un accordo comune. È stata comunque un'opportunità per metterci alla prova perché quotidianamente ci troviamo in problemi ma non sappiamo al momento come affrontarli e comunque è un momento in cui puoi riflettere su come si è creato il conflitto e come superarlo sempre insieme. Quindi è stata una bellissima opportunità. I conflitti di cui parlavamo erano conflitti più che altro nell'ambito scolastico. attraverso un'unione della classe e un'unione soprattutto tra le persone perché andando avanti con la storia abbiamo scoperto che il gruppo classe si era diviso in diverse fazioni. Solamente unendo queste fazioni, unendo questi diversi punti di vista ci siamo resi conto che si poteva risolvere la controversia e anche il caso. Nella seconda parte della pomeriggio sempre in sala Ticozzi si è svolta la presentazione del libro dell'incontro, vittime responsabili della lotta armata a confronto, sempre a cura della tavola lecchese per la giustizia riparativa. Un appuntamento di grande interesse al quale hanno partecipato Adolfo Ceretti, professore ordinario di criminologia all'Università di Milano Bicocca e mediatore del percorso dell'incontro. Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega, maresciallo di pubblica sicurezza, vittima delle Brigate Rosse. Grazia Grena, ex appartenente a organizzazioni della lotta armata, analisa Zamburlini, componente del gruppo primi terzi in rappresentanza della società civile. Volevi portare la vita, hai portato la morte. Volevi difendere la dignità della vita e sei finito a spalleggiare l'oscenità della morte. Volevi evitare l'immiserimento dei sentimenti e pensieri quotidiani, hai portato quotidiana desolazione nei cuori. Allora il carico che devi affrontare non è solo quello di aver tradito la vita, ma anche quello ancora più pesante di aver tradito te stesso.